Elio De Paulis, del Proloco di Santo Stefano di Torricella Sicura, dal 10 al 13 di agosto, quindicesima edizione della Sagra delle Pizzonde. Pronunciamolo bene, cosa accadrà? La Pizzonde è un piatto tipico nostro, un piatto povero, usato dai nostri avi quando prima di andare nei campi la mattina usavano fare le Pizzonde, che non è niente di trascendentale, è lievito madre, acqua e farina. Noi questa riedizione la facciamo per la quindicesima volta, dal 10, giovedì 10 fino a domenica 13, le serate saranno aglietate anche da eventi musicali, ci sarà Danilo Ciccolone, ci sarà Vittorio il Fenomeno, il 12 ci saranno i musici e domenica per finire in Montepulciano, Tecchiera Montepulciano. Noi invitiamo tutte le persone che ci vogliono bene perché dopo gli eventi sismici, il terremoto, unitamente alla neve, vogliamo rivivere un po' il nostro paese, far rivivere il nostro paese. Ecco, la Pizzonda che viene fatta a Santo Stefano di Torricella, cosa di particolare? La presenza appunto del lievito madre? Sì, quella è la caratteristica principale. La servirete anche con qualche abbinamento particolare? Sì, particolare, la fritteremo con i peperoni, con le alici, con la salsiccia, la porchetta e col tartù che più ne ha ne metta. E in ultimo anche con la nutella. Allora buon appetito! Grazie!